Che cosa è successo al 91-5? È successo che il signor Mazzolini ha valutato un episodio molto, credo molto, molto, molto dubbio, calcio di rigore, lì credo che sia non finita, però le nostre percentuali sono cadute come la borsa, quasi a zero, dispiace, perché la squadra non meritava di subire un pareggio in questa maniera, due squadre che avevano un obiettivo così importante, non può essere decisa un episodio, al mio avviso molto, molto dubbio, per non dire inesistente, quindi così è stato e ormai non ci si torna più indietro. Ad Albertazzi che darei mio figlio come babysitter, credo, no, sai cosa mi ha detto? Mi ha detto che Calvarese ha detto sia lui che a Rafael che a Marquez che non era a calcio di rigore, ma Calvarese è a un metro da close, perché Mazzolini ha voluto far così? Si, Calvarese è a un metro e ha detto che non era niente, lascia correre, Mazzolini era lontano, vicino a Bergamo e ha detto che era, no, a parte le battute, se no qui prendiamola un po' a ridere, ormai è andata finita, l'arbitro ha sempre la decisione finale e ha deciso per calcio di rigore e quindi basta, ormai è inutile dire... Sei arrabbiato, perché? No, 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 dico, ho capito. Io non ho avuto né offese verbali, non sono andato a contatto con Rea, gli ho detto in faccia quello che credevo e che chiede... Cosa voleva Rea? Ah sì? No, diceva che lui insisteva sull'episodio del primo tempo, ma gli ho detto guarda che aveva già fischiato l'arbitro, quindi non si può parlare di gol annullato quando l'arbitro aveva già fermato il gioco, quindi per tutto il resto credo che sia lì davanti agli occhi di tutti, quello che abbiamo subito e lui ha detto che è stato poco gentile, mi dispiace, non l'ho offeso né verbalmente, ma a fare gentile abbiamo buttato via anche di un sogno che la squadra aveva ampiamente meritato. Ecco, il Verona che si è scontrato contro un potere forte, perché se penso alle disegnazioni, i Bergonzi nel derby di Inter Milan e penso a Mazzoleni in Lazio-Verona, cioè bisogna anche dirle queste cose, Mazzoleni è stato oltremodo casalingo secondo me questa sera? Con il signor Mazzoleni non si è stati fortunati, lo conosco, abbiamo fatto anche un periodo di vacanza, ci siamo stati poco fortunati. Con la Roma in casa, glielo dissi poi alla riunione, a parte invertita avresti dato il calcio di rigore, ricordo che con la Roma a Verona ha chiuso la partita su 3-1, pre-aperta e oggi ha determinato un sogno che credo che meritavamo tutti, per come è stata preparata la partita, come è stata giocata, con i nostri pregi, con i nostri difetti, ma è una squadra che ha dominato, ha avuto tante occasioni e basta. Non meritavamo di finire così e di decidere un episodio così dubbio. Non si può che pensare male davanti a questi episodi? Io non penso male, io penso che gli eroi ci stanno e oggi dobbiamo subire noi. Alla fine torna tutto. Doveva andare così, Turbe che perde palla, Raffaele che pare il rigore e torna sui piedi di Amauri. Tra l'altro, a proposito, io non vorrei innescare una polemica, però Amauri è un giocatore che dovrebbe essere sospeso. Ma io non entro, io penso alla partita. La partita ha avuto uno svolgimento e la squadra è andata sotto, ha rimontato, è andata in vantaggio, ha strameritato il vantaggio, è andata in superiorità. Forse ha sbagliato qualche scelta di gioco, però ne ha fatte tante altre positive. E ripeto, è stata decisa da un episodio che non è stato determinato né dalla Lazio né dal Verona. Quindi è stata determinata da un episodio che ci sta nel calcio e andiamo avanti. Le scelte di Mazzoletti preveranno di Turbe e anche di Albertazzi? Beh, si è dato un rigore che ha visto solo lui. Non mi sembrava neanche ultimo, ma credo che era già munito. Parla anche della munizione sui Turbe, è un fallo e ha munito. Vabbè, io non lo so, ormai bisogna pensare a tutta la partita. Non siamo sicuramente contenti di quello che è stato l'andamento e lo svolgimento del signor Mazzolini. Dispiace perché è un arbitro giovane, bravo, ma credo che oggi ha fatto un errore clamoroso a portare via un sogno grande a una società, a una squadra, a un tecnico che lo meritava. Ti spiace vedere un Luca Toni non risolutivo questa sera? Beh, ma nel calcio ci sta, ne ha fatti tanti. Oggi era una serata così, però nonostante questo una squadra che ha fatto tre gol ne ha sbagliati, però Luca è stato immenso e come è stata immensa la squadra questa sera. È finito il sogno o si può riaccendere? Non lo so, nel calcio può succedere di tutto, come abbiamo visto le partite anche negli altri campionati, squadre che vanno in finale Champions League e poi perdono. Quindi non lo so, noi adesso dobbiamo recuperare, comunque è una partita che ci ha buttato via tante energie nervose e quindi dobbiamo recuperare e giocarci con l'Udinese. Non lo so, però sicuramente le percentuali sono diminuite tantissimo, potevano essere molte e molte di più. Vabbè, si vede che, come scherzando diceva Luca, forse non siamo ancora pronti e dobbiamo fare un po' di rodaggio. Oggi l'abbiamo pagata e basta, fine. Quali sono ancora le spere con Mazzolini? No, ho dispiato di un bravo ragazzo, però è poco fortunato con me, è poco fortunato col Verona e quindi parliamo solo di poca fortuna e basta.